sono vivo oggi qualcuno mi ha bruciato la sinistra della terra ma che c'ha le chiavi? c'ha le chiavi? oh regà ma come cazzo fa? è durissima ma rimane incastrata dalla frizione cala 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 oddio è tutta strana c'è la pressione tossissima ecco anzi ma porca troia come fai? no 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 E' un pezzetto Ah si ma c'è il subwoofer Allora Com'è? Così? E' così se ho più senso della morte Ah si via della te non ci faccio mettere le marce Peggio? Ma no porca Andiamo a fare un po' di drift Vabbè il casco ce l'ho E' il mio mano Ma che porco Ok Minchia zio Quel casco Ah il carraia si è impennato Ah il casco Eh diocan Eh porca No 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 Orca Orca di No 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 Guarda che buche Non so chi sia un po' manco io porco vabbè oh ma stavamo sotto in ruote non me ne ero accorto sono vivo ah si iscriviti al canale